Merlo, Migliore, Orlando, Pesseggia, Luca Pini, Pisicchio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Santerini, Scalfarotto, Scotto, Tabacci, Velo, Vignali e Zanetti sono in missione a decorre dalla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 85, come risulta dall'elenco depositato presso alla Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni Carlo Galli ed altri numero 1, 1193, nuova formulazione, e due ed altri numero 1, 1265, concernenti interventi per il rilancio del comparto della ricerca italiana. La ripartizione dei tempi riservati alla discussione è pubblicata nel calendario. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. È scritto a parlare il deputato Carlo Galli che illustrerà anche la sua mozione numero 1, 1193. Prego, onorevole Galli, alla parola. Grazie, signora Presidente. Signora Presidente, onorevoli colleghi, signori membri del Governo, ricerca e università presentano non tanto singoli problemi da risolvere con interventi spot, quanto vere e proprie questioni, complesse e interconnesse. La prima è la questione del sottofinanziamento. L'Unione Europea ha elaborato dal 2001 la strategia di Lisbona, poi rinnovata con la strategia 2020, che mira ad accrescere il livello scientifico e tecnologico e a rendere l'Unione una delle aree più avanzate del pianeta e pone come obiettivo quantitativo minimo la quota del 3% del prodotto interno loro di ciascuno Stato membro per la ricerca e lo sviluppo. Gli ultimi governi italiani, disattendendo il dettato costituzionale, l'articolo 9 della Costituzione recita La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica e, in contraddizione con gli impegni di Lisbona, hanno progressivamente ridotto a università e enti di ricerca il supporto finanziario. L'analisi del bilancio dello Stato su dati della ragioneria generale testimonia che, mentre cresce la spesa pubblica corrente, sulla ricerca si sono addensati tagli superiori a qualsiasi altro settore pubblico, con un calo totale del 20%. Ora, a fronte di un costante declino dei fondi ordinari FFO e FOE, si può osservare anche l'eseguità dei finanziamenti ai ricercatori su base competitiva. I cosiddetti PRIN sono rimasti inattivi dal 2012 e i progetti FIRB sono cessati dal 2013. Tali riduzioni di spesa hanno portato l'Italia a retrocedere rapidamente per risorse investite, numero di laureati, dottori di ricerca, professori e ricercatori in senso lato, agli ultimi posti fra i Paesi OXE. Il persistente trend di flessione del finanziamento pubblico alla ricerca distingue in negativo a livello internazionale il nostro Paese, il quale nel 2014 registra un totale di finanziamenti pubblici e privati in ricerca e sviluppo, pari all'1,28% del prodotto interno lordo, a fronte di una media OXE del 2,37%. Il mondo della ricerca italiana conosce da tempo fermenti di critica a questo orientamento, manifestatisi già nella gestazione della legge 240 del 2010, che hanno assunto forme diverse in relazione a singole emergenze. Protesta contro tagli e scatti degli scatti stipendiari del 2011-2015. Protesta contro le modalità di valutazione della qualità della ricerca, VQR. Lo sciopero la rovescia promossa dal coordinamento nazionale ricercatori e ricercatrici non strutturati per il riconoscimento della ricerca come attività lavorativa, richiesta di estensione dell'indennità di disoccupazione discol e delle tutele previdenziali e sanitarie anche gli assegnisti, i dottorandi e i titolari delle borse di studio. Per tali ragioni, insieme ad altre iniziative, è anche in atto una campagna di sensibilizzazione promossa dal mondo scientifico e accademico sullo stato allarmante in cui versa la ricerca pubblica italiana che sopravvive e mantiene una elevata produttività internazionale nonostante la scarsità di risorse e la completa assenza di programmazione. Gli è un appello che conta oltre 45.000 adesioni degli scienziati italiani all'Unione Europea perché faccia pressione sul governo italiano in questa direzione. Inoltre, una riduttiva lettura della globalizzazione dell'economia legata esclusivamente all'accelerazione tecnologica ha determinato nel nostro Paese la diffusa idea che l'obiettivo di aumentare la competitività dei settori produttivi potesse essere raggiunto a costo zero trasformando la ricerca di base in ricerca applicata concentrando le risorse in pochi centri università di eccellenza e lasciando alle altre il ruolo di teaching university e infine prosciugando la cultura umanistica ritenuta un onere superfluo rispetto allo sviluppo economico delle imprese private. Mentre la strategia Europa 2020 mira ad accrescere la competitività del vecchio continente investendo nel cosiddetto triangolo della conoscenza, istruzione, ricerca e innovazione attraverso il programma Horizon 2020 grazie al quale vengono finanziati dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 i progetti di ricerca e innovazione la politica italiana si è prodotta in modo schizofrenico da un lato incentivando l'investimento in ricerca attraverso il riconoscimento di un credito di imposta per investimenti in ricerca e innovazione dall'altro con accresciuti controlli burocratici ministeriali che esautorano le autonomie della ricerca dell'università. Insomma, un mix di concause che determinano il paradosso italiano in virtù del quale si continua a contribuire ai fondi europei in misura nettamente maggiore rispetto all'entità dei finanziamenti. In conseguenza della carenza d'attenzione e dell'incertezza delle opportunità si depaupera così il capitale umano e si finanziano i nostri concorrenti trasferendo ad essi i ricercatori italiani la cosiddetta fuga dei cervelli formati a nostre spese che negli altri paesi trovano condizioni migliori per esprimere i propri indubbi talenti. Tutto ciò determina anche una scarsa attrattività dell'Italia che ha portato all'estero 15.000 ricercatori creando così un vero e proprio buco generazionale mentre i ricercatori entrati sono pochissimi le uscite sono pari al 16,2% e gli ingressi sono fermi al 3%. Un'ulteriore questione è la discrezionalità e la privatizzazione dei finanziamenti alla ricerca. La dispersione delle scarse risorse per la ricerca imporrebbe un maggior coordinamento mentre in senso opposto procede la creazione a fianco del CNR e delle università dell'Istituto Italiano di Tecnologia ovvero una fondazione privata finanziata direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che nel 2008 ha ricevuto in dotazione il patrimonio finanziario della fondazione IRI pari a circa 130 milioni di euro un trattamento di favore che dovrebbe sollevare l'indignazione della comunità scientifica a prescindere dal valore della ricerca effettuata dentro l'IIT un'indignazione contro una linea emergenziale che con una mano toglie fondi e risorse alla ricerca e all'alta formazione pubblica e dall'altra affida a poteri discrezionali in assenza di qualsiasi controllo di merito e di verifiche fondi e risorse. all'Istituto Italiano di Tecnologia il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ufficialmente affidato la concessione del progetto definitivo dello Human Technopole in associazione ai tre Atenei milanesi a diversi istituti di ricerca ed area confindustriale progetto per il quale verranno stanziati un miliardo e mezzo di euro in dieci anni una scelta paradossale se confrontata con i tagli mascherati al settore pubblico dell'Università della Ricerca nella legge di stabilità 2016 che portano il definanziamento del sistema universitario a 1,1 miliardi di euro una scelta tanto più paradossale perché l'Istituto Italiano di Tecnologia svolgendo anche attività di ricerca in proprio non ha le indipendenze necessarie per erogare finanziamenti ad altri infatti non può essere contemporaneamente un laboratorio o un'agenzia non può essere giocatore e arbitro l'ulteriore questione è quella dei recenti finanziamenti che il Presidente Renzi ha annunciato nei mesi scorsi pari a 2,5 miliardi di euro pur sapendo che non si tratta di risorse aggiuntive ma della quota di cofinanziamento spettante al nostro Paese per la sua appartenenza e partecipazione al programma europeo Horizon 2020 Nello stesso contesto il Premier ha confermato il varo di un programma nazionale per la ricerca 2015-2020 da 2,5 miliardi di euro importo che non sarebbe però costituito da risorse fresche ma che corrisponderebbe a fondi contabilizzati da oggi al 2017 tra stanziamenti già presenti nel bilancio MIUR per un importo pari a 1,9 miliardi di euro e una quota relativa alla programmazione nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020 per un importo di 500 milioni di euro in sostanza si tratterebbe della programmazione attuativa di risorse già disponibili non nuove si deve tuttavia ammettere che non era scontato che il Fondo sviluppo e coesione fosse utilizzato prevalentemente per la ricerca e ciò va riconosciuto il suddetto piano del governo per rilanciare ricerca e innovazione manca all'appello dal 30 gennaio 2014 quando il Consiglio dei Ministri esaminava in via preliminare il testo elaborato dall'allora Ministra Carrozza è mai varato nonostante il tentato e continuo depistaggio cognitivo da parte del Premier resta che il governo in perfetta continuità con quelli precedenti prosegue una rotta dannosa per il Paese e ha stanziato per i prossimi due anni solo 100 milioni di euro con i quali poter assumere solo 861 ricercatori all'anno mentre invece ne servirebbero almeno 2400 all'anno per i prossimi 8 anni un'ulteriore questione è quella del reclutamento della docenza universitaria e dei ricercatori è prioritario infatti affrontare l'attuale condizione di gravissima carenza di personale se si vuole evitare che il sistema universitario pubblico sia avviti in una spirale di declino irreversibile il sottodimensionamento del corpo docente universitario italiano emerge evidente dal confronto europeo e peggiora ogni anno la consistenza numerica attuale è in Italia inferiore di almeno il 25% alla media dei valori di Germania Francia Spagna e Regno Unito per l'effetto combinato della riduzione dei finanziamenti dei blocchi del turnover e dei concorsi e dell'abbassamento dell'età di pensionamento negli ultimi sette anni si è verificato un crollo verticale del numero di docenti in servizio pari a meno 30% per gli ordinari e meno 17% per gli associati superiore alla contemporanea modesta riduzione del numero degli studenti in assenza di interventi normativi che sblocchino l'attuale limite al turnover previsto dall'attuale regime per le assunzioni di università statali si assisterà ad un'ulteriore pesante contrazione del corpo docente che comporterà nel 2018 il dimezzamento del numero dei professori ordinari in servizio rispetto a quello del 2008 a effetti analoghi si avranno sui professori associati che verranno ridotti circa del 27% l'attuale normativa infatti prevede che nel 2016 risulti spendibile per il reclutamento il 60% del turnover per poi passare all'80% nel 2017 e soltanto a partire dal 2018 stabilizzarsi sul 100% sul medesimo fronte del reclutamento universitario la legge 240 del 2010 ha individuato un percorso per ruolo per accedere alla docenza che ha reso meno attraente per i giovani la carriera infatti la legge ha previsto che il percorso duri almeno sei anni e sia destinato ad allungarsi ulteriormente così che l'età media di ingresso alla docenza è oggi intorno ai 37 anni la figura del ricercatore a tempo determinato prevista dalla suddetta legge si articola nelle due distinte fattispecie la fattispecie A e la fattispecie B molto simili tra loro dal punto di vista qualitativo e dei compiti istituzionali e tuttavia profondamente diversi dal punto di vista dell'accesso alla docenza infatti la stessa legge non contempla tra i soggetti ammessi alle procedure pubbliche di selezione i titolari di assegne di ricerca valutando come titoli utili ai fini della partecipazione al concorso per ricercatore solo quegli assegni che sono stati conseguiti mentre vigeva l'articolo 21 della legge 449 del 1997 e non anche quelli conseguiti in forza della normativa attuale e così tale esclusione degli abilitati dal novero dei possibili candidati ha già prodotto fino ad oggi effetti paradossali ha costretto gli atenei a reclutare quali ricercatori di tipo B soggetti che non hanno ottenuto l'abilitazione nazionale a scapito di altri che invece l'hanno ottenuta attualmente la gran parte dei ricercatori italiani usufruisce di assegni di ricerca cioè di una forma di contratto di lavoro parasubordinato che però non dà luogo a tutele degne di questo nome nemmeno nel caso di periodi purtroppo sempre più frequenti di disoccupazione insomma non si vedono riconosciute la cosiddetta discol per di più negli ultimi dieci anni i precari sono stati espulsi dagli atenei italiani per il 93% ulteriore questione e poi quella che possiamo definire la nuova questione meridionale non vi è infatti dubbio che una serie di fenomeni preoccupanti si stia concentrando maggiormente al sud la crisi del sistema universitario meridionale è ben fotografata dall'ultimo rapporto svimez da cui emerge lo strettissimo rapporto tra la drammatica condizione giovanile nel sud e il declino degli atenei meridionali e dei sistemi regionali di diritto allo studio se le risorse diminuiscono anche le opportunità formative calano del resto le misure del governo continuano a favorire una biforcazione su base territoriale del sistema universitario italiano favorendo gli atenei del nord stando all'ultimo rapporto ANVUR inoltre negli ultimi dieci anni le università meridionali hanno perduto 45.000 immatricolazioni non lo stesso può dirsi per quelle collocate al centro nord che dopo un'iniziale perdita hanno ormai superato la crisi lo stesso rapporto evidenzia che in Italia sette diplomati su dieci proseguono gli studi immatricolandosi all'università secondo un flusso migratorio di studenti dal sud al centro nord pari al 25% in totale le università del sud riescono a trattenere poco più del 60% dei loro diplomati meridionali mentre pochissimi studenti del centro nord si immatricolano nelle università del sud il suddetto fenomeno nasce da un'iniqua distribuzione delle già scarse risorse finanziarie destinate al diritto allo studio universitario ripartizione che essendo legata allo stato dei bilanci di queste ultime tiene solo parzialmente conto dei potenziali beneficiari rappresentati da quegli studenti capaci e privi di mezzi ai quali la costituzione attribuisce il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi che sono maggiormente presenti al sud il suddetto progressivo abbandono delle università meridionali è il risultato anche dell'adozione in sede di valutazione della didattica della ricerca da parte dell'ANVUR di meccanismi premiali distorti che dietro la presunta oggettività dei numeri sta portando al collasso gli atenei meridionali ritenuti meno meritevoli di altri e sta dirottando la maggior parte delle poche risorse verso il nord inoltre anche i criteri di ripartizione di ripartizione della quota premiale del fondo di finanziamento ordinario sembrano diretti contro gli atenei meridionali perché questi tenendo conto del rapporto fra entrate e tasse entrate da fondo di finanziamento ordinario e spese risentono della minore capacità reddituale delle famiglie meridionali di pagare tasse alte e penalizzano quegli atenei che si trovano in territori più poveri tale situazione è generata anche dall'onere finanziario che grava sugli studenti in dimensione comparativa il nostro paese non solo destina poche risorse pubbliche al sistema universitario ma ha anche la tassazione studentesca tra le più alte d'Europa dopo le nefaste riforme dei ministri Moratti e successivamente Germini e Profumo che hanno imposto agli atenei italiani di comportarsi in temini aziendalistici costringendoli a ridurre l'offerta formativa e le proprie strutture nei territori e ad affidarsi per sopravvivere a finanziatori privati i provvedimenti dell'attuale governo in piena continuità con i precedenti confermano accentuandolo la politica di smantellamento del sistema pubblico al fine di accrescere l'attrattività a livello internazionale del sistema universitario italiano la legge di stabilità 2016 ha istituito in via sperimentale il fondo per le catedre universitarie del merito Giulio Natta finalizzato a reclutamento straordinario in derogo alla procedure concorsuali di 500 professori ordinari associati per chiamata diretta per elevato merito scientifico secondo procedure nazionali da definire ancora da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsione che introduce di fatto nel sistema un secondo canale di reclutamento dei docenti di natura extraconcorsuale si tratta di una misura certamente non risolutoria dei problemi strutturali di un'università italiana che tra l'altro potrebbe produrre effetti distorsivi fra i quali un'ulteriore delegittimazione del sistema universitario infine è da sottolineare la scarsa considerazione nella quale è tenuta la ricerca umanistica che nell'attuale situazione di dominanza del pensiero unico modellato su posizioni neoliberiste non pare adeguatamente finanziata dalla mano pubblica tutto ciò premesso la mozione di cui sono il primo firmatario impegna il governo a rilanciare con la massima urgenza il settore della ricerca e della cultura italiana abbandonando la logica emergenziale e discrezionale impostando una programmazione con cadenza almeno triennale a varare con urgenza l'annunciato programma nazionale per la ricerca 2015-2020 assumere iniziative per elevare in prospettiva l'attuale spesa per investimenti ricerca e sviluppo a un livello pari al 3% del prodotto interno lordo ad assumere iniziative per sospendere dal 2017 il meccanismo di contingentamento delle assunzioni eliminando ogni limitazione del turnover ad affrontare il problema del cofinanziamento dei fondi europei con strumenti innovativi di sostegno che agevolino su un piano finanziario e amministrativo la partecipazione della ricerca italiana ai bandi comunitari ad assumere iniziative per rivedere il sistema di valutazione della ricerca e dell'istruzione universitaria basata su fondi pubblici affidando la valutazione ex post o concluso della ricerca ad un'autorità indipendente dal MIUR affidandole come obiettivi il miglioramento della ricerca della didattica dei servizi creare un fondo premiale per le università separato dal fondo di finanziamento ordinario e a distribuire periodicamente il ragione dei progressi realizzati da ciascun ateneo assumere iniziative per fare del dottorato di ricerca un titolo preferenziale di accesso alla pubblica amministrazione assumere iniziative per definire un chiaro percorso post-dottorato non superiore a quattro anni che recepisca quanto stabilito dalla Carta Europea dei ricercatori per un contratto unico pre-ruolo con retribuzione tuteli e diritti di rappresentanza conformi a quelli dei lavoratori a tempo determinato a individuare strategie per l'assunzione in ruolo dei ricercatori a tempo determinato sia di tipo A sia di tipo B in possesso di abilitazione scientifica nazionale la ringrazio grazie è scritto a parlare il deputato Luigi Gallo che illustrerà anche la mozione numero 1 1265 di cui è confermatario prego onorevole grazie presidente l'Italia rimane tra gli ultimi paesi in Europa per quota di popolazione in possesso di un titolo di istruzione superiore al diploma ed accumula un ritardo considerevole da una parte c'è una strategia europea 2020 che punta a sviluppare un'economia maggiormente basata sulla conoscenza e sulla ricerca e dall'altra c'è Filippo Taddei il responsabile economico del Partito Democratico che dichiara come l'obiettivo governativo sia la modifica della mentalità lavorativa degli italiani perché andate a leggere le sue dichiarazioni sull'espresso e troverete queste parole dobbiamo abituare la gente che l'istruzione sarà molto più lunga e costosa le assunzioni a tempo indeterminato molto di meno i tempi di lavoro più lunghi i pensionamenti verranno posticipati le riforme non hanno solo un fine economica ma anche e soprattutto sociale esattamente l'opposto di quello che chiede il Movimento 5 Stelle c'è un problema enorme di disuguaglianza territoriale che questo governo fa finta di